ciao ragazzi oggi vi stupirò con un progetto fighissimo faremo un murales in una carrozzeria e adesso vi faccio vedere il progetto faremo una macchina europea e una macchina americana e qui centrale faremo il logo della carrozzeria questo è il progetto e adesso vi farò vedere come lo realizzerò mi raccomando mettete un like se vi piace il video ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.